adesso vedremo come puntare questo smartphone a pure molto simile al cubo allora io lo sto smontando perché si è rotto il connettore di alimentazione quindi adesso andiamo procediamo nel citare le viti che vedete qua con l'uso di un giravite in precisione ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti